E' di 8.000 euro il voltino del furto perpetrato ai danni del gestore di un distributore di benzina che è stato derubato sotto casa intorno alle 20 circa in via Malta. L'uomo è stato colto di sorpresa mentre parcheggiava la macchina. Un giovane con un gesto veloce ha aperto lo sportello del sedile posteriore dove era posato una busta contenente il ricavato della giornata, ovvero 8.000 euro circa. Dopo aver compiuto l'atto criminoso il giovane è scappato a piedi verso Viale della Regione. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle volanti senza però riuscire ad individuare il ladro fuggiasco.